Ciao ragazze! In questo video voglio mostrarvi tutti i prodotti che ho preso dall'ultima collezione di Wicon quella che si chiama Lucille e che ha dei prodotti che hanno comunque ingredienti abbastanza buoni sinceramente avevo visto anche la collezione dedicata a San Valentino mi ha colpito molto l'illuminante però ho preferito prendere questa collezione anche perché l'illuminante in quella collezione costa 16,90€ mi sembrava un po' altino come prezzo sicuramente se rimarrà quando lo sconteranno lo acquisterò comunque ho preferito fiendarmi in questa collezione ho messo tutto in questa bustina di Wicon e vi mostro quello che ho preso allora innanzitutto ho preso questo, praticamente questo è l'illuminante di questa collezione all'interno ci sono 9 grammi di prodotto e a 18 mesi di pao la confezione è questa di cartone che sicuramente conserverò perché mi piace tantissimo perché sembrano quelle confezioni un po' retrono, non lo so, mi piaceva tantissimo come è fatta è di questo rosa cipria con tutti questi pois l'illuminante si chiama Juliette ed è l'unico presente nella collezione è un illuminante che dà un po' sul bianco, quindi quelli che preferisco io e niente, vi mostro come è fatto il packaging è fatto così, quindi è di plastica sembra anche abbastanza solido come packaging davanti avete lo stesso disegno che c'è nella confezione esterna quindi è fatto nero con questo disegno che sembra un tatuaggio sul bianco e niente, la confezione è così, quindi non è di quelli molto stretti e all'interno avete uno specchio che ha la stessa dimensione appunto del prodotto e il prodotto è questo, è un illuminante comunque grandissimo perché comunque sono 9 grammi e niente, mi piaceva sia perché la tonalità è di quelli illuminanti che utilizzo io ho sentito dire che è un dupe di Angel di Nabla io non ho Angel di Nabla, quindi sia anche un dupe sono contenta perché non ce l'ho sinceramente niente, io non l'ho preso per quello e non posso comunque farvi un raffronto lo swatch è questo, quindi è molto luminoso ed è stratificabile diciamo che è di quelli illuminanti che inizialmente sembra anche un illuminante da tutti i giorni ma che se voi lo stratificate si vede comunque che c'è è di quelli illuminanti che io adoro poi ho preso un blush, non potevo non prendere un blush quello che ho preso io è la tonalità 02 Isabel in collezione ci sono tre blush uno sul pescatto, uno sul tendente un po' rosso che ho visto un po' troppo acceso perché avevo paura che magari facesse macchia quindi non ho preso e poi ho preso questo che è sul rosato che come sapete sono i blush che io preferisco come l'altro comunque è 9 grammi di prodotto e 18 mesi di pau la confezione è fatta come quella dell'illuminante e niente vi mostro come il prodotto all'interno diciamo che il packaging è esattamente come quello dell'illuminante nel senso che è solido, compatto con lo stesso disegno che c'è davanti e niente all'interno avete come nell'altro lo specchio e poi il blush è questo è di quei colori che a me piacciono tantissimo quindi dopo averlo sbocciato l'ho voluto prendere comunque per i prezzi vi lascio giù nel info box perché comunque non me li ricordo e lo swatch dell'illuminante del blush è questo quindi è questo color rosa che può essere da tutti i giorni ma anche questo può essere stratificabile e comunque è un rosa abbastanza freddo e poi ho preso uno dei rossetti i rossetti se non sbaglio erano 5 in collezione diciamo che non c'era un colore che comunque era una novità però comunque ne ho voluto prendere uno non ho preso il bronzer c'è la terra per fare il contouring perché mi sembrava un po' troppo scuro per la mia tonalità di pelle però mi piaceva anche quello però ho preferito non prenderlo comunque dicevo ho preso uno dei rossetti che sono 6 non 5 e ho preso il numero 04 edwidge c'erano tutte le tonalità quindi un marroncino ce n'era uno che dava un po' sul beige poi ce n'era uno più fucsia uno rosso e ho voluto prendere questo che non è né un rosso né un fucsia comunque la scatolina è questa si chiama c'è scritto Smile Vegilicious a 12 mesi di Pao e all'interno ci sono 7 ml di prodotto è fatto così quindi anche qui viene riportata la scritta Smile Lucille al di sopra ci è disegnata la bocca ed è tutto nero opaco non lo so mi piaceva tantissimo e l'ho voluto prendere la tonalità è questa quindi è un rosso cioè rosa con una puntina di rosso un po' tendente comunque al nude e niente il colore è questo quindi di quei colori che piacciono tantissimo a me non è quello che ho sulla labbra però sembra quasi diciamo lo stesso colore però mi piaceva tantissimo e di quelli che piacciono a me e niente fatemi sapere voi che cosa avete preso se avete preso qualcosa di questa collezione se siete rimasti un po' stupite dal fatto che questa collezione comunque aveva dei buoni ingredienti quindi un buon inci fatemi sapere se vi sono piaciuti questi prodotti se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto ciao